Ciao, io sono Emanuela D'Agostino e ho 39 anni. Vengo da un piccolo paesino della Calabria che si chiama Roccella Ionica. Che dovevamo fare mo? La mia carriera di attrice comincia a soli 4 anni, quando la vicina di casa si presenta da mia mamma e tutta preoccupata le dice Oh, ma tu fuggi staci parlando solo in tuo barcone, ma che staci facendo? Facci fuggi strani, non sapete che facci. In che senso? Vado? La ragazza calabrese decide di partire e di trasferirsi nella città... La ragazza calabrese decide di partire e di trasferirsi nella città eterna, la città della dolce vita. Si sentiva come le grandi dive del cinema. Si sentiva... no, si sentiva... Si sentiva come le grandi dive del cinema. Inizia a studiare teatro... Inizia a studiare teatro al piccolo Eliseo, per poi entrare nella scuola di cinema Gianni Damburi e alla scuola di Massimiliano Bruno. Quindi non posso neanche ridere? Si, si, puoi ridere. Anzi, è meglio che ridi. Ok. Inizia a fare anche doppiaggio. Libera, libera, rianimate, rianimate! Scusate! Mezzo secondo perché non abbiamo tempo. Posso essere una ragazza russa, se tu piace. Mi basta, basta! Non ce la faccio più! Non disapporto più! Che cazzo! Non ci riesco. Il cinema continua a chiamarla. Questa città ha bisogno di lei. Se siete arrivati fino alla fine del video, siete davvero molto coraggiosi. Io vi saluto e vi ringrazio. Ciao! Ciao! Ciao!